www.minecraft.com è un generatore un po' particolare, infatti è l'Heat Generator e consente di produrre energia elettrica dalla lava il generatore in questione è questo qui come vedete il crafting è molto semplice e sembra se tutto va bene che possiamo farlo molto più breve rispetto agli altri disastrosi crafting che abbiamo avuto nelle scorse puntate 3 lingotti di platino sopra i lingotti di platino li possiamo fare attraverso l'enrichment chamber che abbiamo visto nella scorsa puntata che consente di fare 2 dust a materiale grezzo di platino o altri materiali e quindi riusciremo ad avere il doppio dei lingotti perché cucinando il dust si ottengono i lingotti 2 di ferro, 1 di redstone le riched alloy che ricordiamo si crafta con 1 di ferro al centro e 4 di redstone intorno e riched iron ecco questo qua non mi sfugge sempre che la scorsa volta se non ero l'avevamo craftato in questa maniera qui quindi con il riched alloy 2 riched alloy e un iron quindi un ferro questa volta li crafteremo con i dust visto che abbiamo l'enrichment possiamo farlo sia con 2 di tin dust e un ferro o con 2 copper dust nel senso dust di rame e uno di ferro vedremo poi questa sarà la discrezione nostra e... ah no però mi sa che producono... ah si ecco se lo facciamo con il riched alloy ce ne da 6 quindi avremo 6 riched iron e invece se lo craftiamo con il copper o con il tin ce ne darà semplicemente 4 però per il nostro utilizzo va più che bene perché ce ne serve uno solo e... bene cominciamo già con la preparazione useremo questa volta la fornace elettrica perché dovremo avere abbastanza energia speriamo e... prima cosa da fare prendiamo il... il platino ah ragazzi se vedete qualche materiale in più semplicemente perché sto cominciando a scavare una... una piccola miniera dove vi avevo fatto vedere in precedenza e vi porterò forse anche nella prossima puntata vedremo un pochettino e... semplicemente le miniere adesso la miniera me la sto girando io perché comunque è quella che avevamo già visto e nel caso in cui ci fossero nuove miniere come quella che vi avevo illustrato nella scorsa puntata e la vedremo semplicemente insieme perché così almeno ci teniamo aggiornati però per vedere le miniere vecchie è sinceramente inutile che vi porto sempre giù ovvio che se trovo materiali strani e... parto subito con la registrazione allora mettiamo il platino enrichment chamber energia ce n'è e... beh ovviamente la batteria è carica ne basterà semplicemente ecco qui qui che è partito il moto zappa si sente è finita l'energia che figuraccia che figuraccia bene, meno male che ero andato a fare un po' di carbone mettiti lì e caricati ecco così almeno non facciamo più le figuracce facendo il nuovo generatore non faremo più figuracce appena la batteria comincerà a caricarsi si cominceremo a sentire DRRRRRRRRRRRR di nuovo quindi abbiamo 8 di... e qua cosa fa? ah non fa più rumore ecco dove avendo ne ha fatti 2 la corrente che ha stento e riesce a salire e abbiamo fatto i 4 di platino ci ha dato anche dell'esperienza cuciniamo questi 4 di platino anzi ne cuciniamo 3 quelli che ci servono dobbiamo cucinare semplicemente quelli che ci servono perché delle volte alcuni crafting serve il dust e poi come facciamo dal lingotto a ottenere il dust non so se mettendolo in un enrichment chamber riusciamo a ottenere di nuovo il dust forse nel crusher riusciremo a ottenerlo però quindi per evitare di fare doppi lavori cuciniamo semplicemente quello che ci serve 3 platini qua dove cavolo lo metto adesso buttiamo via questa terraccia e niente allora quindi lingotti li abbiamo qua questo continua a bruciare sta producendo un bel po' qua sta cominciando a caricare e niente nel frattempo ci sentono gli scheletri fuori abbiamo detto 3 lingotte di platino sopra poi dobbiamo fare le enriched alloy dobbiamo avere quindi 2, 3, 4 di ferro allora per fare le enriched ce le abbiamo quindi cominciamo a caftare ci sta finendo anche la redstone quindi per questo sono cominciato ad andare in miniera perché mi sono allarmato per via della redstone allora lo faremo con il copper questa volta perché vediamo un po' se abbiamo più copper per abbiamo più tin decisamente forse è meglio farlo col tin quindi prendiamo il coperolo lo mettiamo a posto farlo anche e prendiamo il tin e ne faremo ci ne vogliamo due quindi ci basta un blocco solo grigio accendiamo sto motocarro uh ma non è la relazione non l'avevo vista ora abbiamo finito il carbone però intanto abbiamo prodotto due tin dust perfetto quindi adesso dobbiamo fare richard iron mi ricordo stranamente mi sono ricordato quindi ci va bisogna cucinare anche del ferro allora però facciamo anche il dust del ferro così almeno riusciamo a produrre due di ferro ognuno vediamo un po' se ci fa non ce lo faccio perfetto esatto qua che lo faccio la corrente sicurezza tornaccio ok sempre tu nell'inventario ci sei ok abbiamo fatto quattro iron dust quindi cucinandolo dovrebbe diventare del ferro però qua stavo facendo una cavolata perché non ce ne serve semplicemente uno si voilà ecco io qua mi sto imbellinando con l'inventario pieno quindi dobbiamo svuotarlo prima o poi perché non ce ne lo faccio più in questa maniera qui platino mettiamo via voilà abbiamo preso tutto il resto e niente poi allora facciamo castiamo questo richard iron eccolo qui ne abbiamo quattro perfetto e poi teoricamente non ce ne serve più niente adesso vediamo un po' a memoria questo però ragazzi perché vediamo un pochettino se me lo ricordo qua ci manca qualcosa due di farro mi sa proprio di sì vediamo un po' due di farro stranamente mi sono cominciato a ricordare le cose ma stranamente proprio quindi dobbiamo cucinare due di farro dove sono eccoli qua alla fine cucinare con cucinare con la fornace elettrica per consumare del carbone alla fine ma allora della favola bastava semplicemente cucinare anche nella fornace normale però cominciamo a abituarci ad usare questa fornace perché nelle prossime puntate useremo semplicemente per di più questa perché con il generatore con il generatore a calore di calore no a calore perché è un generatore di calore e avremo dell'energia vabbè ve lo spiego dopo inutile che adesso ve lo spieghi perché non ve lo posso far vedere allora due di farro tre lingotte di platino e poi ci serve un ericcia d'iron due ericcia d'alloe ok me li sto cominciando a ricordare adesso stavo leggendo per vedere se era giusto ed ecco qui lit generator ok quindi abbiamo craftato lit generator e lo andiamo a posizionare nella stanza di sotto perché questo qua è uno dei generatori che fa casino lì cosa mi sono scappate le vacche ah no ci servono dei cavi vediamo quanti cavi abbiamo se ci bastano io ne ho tre qua no dobbiamo craftare anche dei cavi perché da sotto dobbiamo arrivare fino a su io intanto nel frattempo man mano che vado vado a raccogliere il grano faccio mangiare le vacche così almeno riusciamo a produrre sempre di più oh c'è un'altra vacca lì sola soletta ma tu cosa ci fai qua? io ti devo ammazzare però perchè sennò tu mi scappi vabbè quando ci trovo in giro poi dopo riprendo dai levatevi levatevi dei coyotesi tu cosa fai vuoi scappare? è la prima che muore mi dispiace ora una pelle dove vai? dove vai? oh ma pelle me ne dassero eh? devo fare un genocidio per prenderti queste pelle una volta ragazzi siamo a tre ma peggio per voi cavolo sono muoniate le pelle io vi devo ammazzare tutte siamo a cinque eccolo qui vorrò una ci ha dato la palle oh la siamo assai perfetto e poi vi farò riaccoppiare ragazzi mi dà un po' di mangiare cosa vi posso dire? su dai alè mangia da tutti si quello pedofilo guardate cosa sta facendo quello guardate si è messo sotto la piccolina pedofilo ok basta scherzare su questi argomenti che sono un po' delicati ok e andiamo a craftare i carri allora non abbiamo copper sciolto quindi dobbiamo farne tutto si dust che non ci servono li mettiamo qua e questo neanche ci serve il copper e dobbiamo farne tre quindi andiamo in campo 2 frrrrrrrrrrrrrr tanto qua l'energia sicuramente abbiamo suflito Perfetto, mettiamo la cucinale 3, si è imparata la tastiera, forse ce la facciamo cucinare. Oh che bello, almeno la fornaccia non fa casino. Dovremmo fare una cassa così almeno possiamo contenere tutti i dust, così almeno li teniamo ben ordinati. Voilà, eccolo qua, lilde, attesa, o libera, non ricordo cosa significa. Ok, abbiamo i tre lingotti, 1, 2, 3. Ragazzi, una cosa, adesso scusate un attimo l'interruzione. Se avete visto, quando posiamo i tre lingotti, adesso mi viene venuto in mente, e vi danno anche un insulated copper wire, nel senso un cavo elettrico non isolato. Ha la stessa e identica efficienza del cavo isolato come questo qui, infatti se vedete l'unica differenza è che questo c'è l'isolamento. Il problema del cavo non isolato è che se vi avvicinate al cavo, o ancora peggio, toccate il cavo, prendete la corrente, prendete una scossa di corrente e quindi perderete la vita. Per evitare ciò, allora usiamo i cavi isolati, così almeno evitiamo questo problema. Anche perché, conoscendomi già, siamo nove puntate, qualcosa avete visto, della mia sbadataggine ce n'è finché ne vogliate. Quindi, io faccio una cosa del genere, adesso non prendo la corrente, ma se ci fossero i cavi non isolati, io a quest'ora sarei già morto come minimo 80 volte. Quindi, ok, abbiamo i cavi, adesso, cosa che ci serve? Due secchi di lava. Perché due? Perché uno vi serve per farvi vedere come funziona. Quindi, facciamo anche un secchio di lava. Oh, che bailes. Ne ho fatto un altro qui. Dai su. Toccarlo, toccarlo, toccarlo. Dai. Sembra il rumore del frigo, secondo me sono registrato da lì. Perché è troppo simile al frigo. Quindi ci serve un altro dust. Cuciniamo su tre di farro e poi andiamo a prendere della lava dove avevamo trovato quella mezza giungla. Adesso me la ricordo, però me la devo ricordare. Speriamo che non fa notte. Oh, cos'è questo? Ah, magenta, dai. Come vedete ci sono parecchie cose, eh. Quindi bisogna fare parecchie cose. Quindi, con tranquillità faremo tutto. Se ci riusciamo, perché ce ne sono abbastanza. L'inventario è piccolo, però sono lunghe da craftare queste cose qui. E poi ci servono ancora dei minerali che non abbiamo. Allora, come vedete non ho fretta ad andare a trovare diamante e cose varie. A me piace giocare con questo modpack. Perché se mi piaceva, se dovevo andare a trovare diamante di fretta e cose varie, diciamo, non giocavo alla volta, giocavo a Minecraft originale. Qua ci sono altri materiali che mi piacciono di più. Poi ho una sua discrezione della persona come giocare. Ovviamente non sto criticando nessuno. Perché non voglio essere preso per ignorante. Ognuno ha il suo stile di gioco che piace, stop. Adesso bisogna trovare la giungla che non ricordo dov'è. Come al solito, ragazzi. Intanto vi mangio una bella bistecca consola. E voilà. Siamo carichi. Devo provare ad andare anch'io in giro con la città con le bistecche in tasca. Magari. Boh, magari... Ho più resistenza. Oh, non so. Vabbè. Dopo questa battuta che fa veramente pena. Andiamo a vedere dove era la giungla. Se non è rara qua dietro. Con la palude. Sai che sto proprio sbagliando di... Ah, no, è quella lì. Sì, ma io... Ma io sono proprio scemo, sono. Ma io sono proprio scemo. Ho fatto il 3 di ferro... E non ho fatto il secchio. Ma... Si può essere così imbecillo, non lo so. Su, adesso rompevo anche il watch. Beh, anche già che c'ero. Ok. Dai, lo rompo col secchio. Su, su, che sta cominciando anche a venire buio. Non c'è una voglia di tornare a casa col buio. Poi non si vede niente. Dai, 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 dai. Muoviti, muoviti. Camminami. Ci devo montare due pattini sotto sto... Tutto sto mino qua perché va troppo lento. Ok. Qua c'è la lava che fa blululu. Piano. Un secchio di lava. Due secchi di lava. E la lava si è tutta quanta sminchita. Va bene, che se ne farei che tanto non ne è vicino a noi. Che bello. Bene, vabbè, tanto devo andare a casa. Veloce. Spiri, piri, 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 fuggio. A se qua ci mettessi un punto con scritto lava? O giungla? Chiamiamo giungla qua proprio così almeno sappiamo che c'è lava. Giungla tutta assieme. Lava. E asciuga. No, è giungla. Giungla scrive così. Lava e giungla. Colore. Un colore. Rosa no. Oh, oh. Rosa no ma lo fai tutto così. Vabbè, va bene così, stop. Lava e giungla. Lava e asciuga, andiamo. E forse la facciamo tornare a casa senza che faccia vuoi. Salta, salta, il grillo. Salta, salta. E mo' si fa male. Dai, 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 dai. Sì, l'ho guardato un attimo giù, pensavo che non stessi registrando. Dicevo, stai a vedere che ho fatto tutto questo senza farvelo vedere. Vedremo che è molto comodo comunque questo heat generator perché produrrà comunque sempre energia. Adesso direte sì, l'energia perpetua no. Adesso vi faccio vedere se c'è una differenza. Se è brutto quell'alberello però, così così lo buttiamo giù e ne pentiamo un altro. Non mi piace, è troppo secco. Cioè è troppo secco, è troppo piccolo. Non so come riuscite a vedere voi, io ragazzi ho provato a mettere la luminosità un pochettino più in alto. Più alta. Sì, più in alto. Più alta e non lo so. Poi magari riguardo il video e vedo un po' come... Ok. Niente ragazzi, allora. Sì, ma io stavo già facendo tutto quanto e ancora non ho piaciuto. Questo generatore lo prendiamo giù nella stanza qui. Allora, direi che per il momento ho di piazzarlo tipo qua. Quindi, come piazzare il generatore di calore? Allora, ci sono due alternative. O lo piazzate direttamente, non so se sto sparando una cavolata. O lo piazzate direttamente qua. Sì, possiamo provarlo a fare così, così almeno vediamo un pochettino se non ho questo dubbio, no? Lo potete piazzare direttamente sul materiale che desiderate. Adesso qua c'è la coble, ma potete metterlo dove volete. Tac. Ecco qui. Questo è il nostro generatore pacco. Va bene, ho un generatore. E sì, adesso mi manca pure che cado qua sotto. Quindi mettiamoci un bel blocchetto. Ok. E questo pochino qua, questo pallino qua, è dove deve uscire l'energia elettrica. O altrimenti, adesso vediamo un pochettino. O altrimenti, o altrimenti niente, perché così per forza. Allora, i cavi li abbiamo. Rompiamo qui, perché qua penso che ci sia un collegamento. Sì, eccolo qui. Colleghiamo i cavi. Facciamo le torce. Sì, va bene, è un po' allungato, fa niente, però va bene così per il momento. E diciamo, questo è il generatore modello base. Come funziona? Qua si può mettere una batteria, dove si può caricare ovviamente la batteria. Produce 120 volt, come il generatore a carbone. E qua si mette il combustibile, che in questo caso è la lava. Cosa succede però? Ci sono due metodi per alimentare questo generatore. Allora, il primo è con la lava, come già abbiamo visto. Mettiamo la lava e parte il moto zappa. E sta producendo energia. Questo qua è il, diciamo, quanto carburante ancora ci rimane. Fa questo casino. Infatti questo qua è la produzione modello casino. Forse su non lo sentiamo per fortuna. Sì, però si sente un pochettino più basso. Vediamo che sta caricando la batteria tranquillamente, quindi il generatore funziona. Voilà. Funziona benissimo. Adesso però dovremmo aspettare che finisce la lava. Va bene, non manca molto. Nel frattempo ci prepariamo il secondo metodo per alimentare questo generatore. In questa maniera qua stiamo producendo abbastanza. produciamo 2.000-3.000 Joule a, non so quanto, comunque 2.000-3.000 Joule di potenza. E rimarrà acceso fino a quando c'è combustibile. Qua è la barra del combustibile, ma ce lo riporta anche benissimo qui. Il secondo metodo per alimentarlo in modalità, diciamo, una modalità che rimane sempre accesa è, forse come avete intuito, di piazzare della lava sotto il generatore. Adesso non penso che salti, ok? Perché di solito si fa il primo... No, no, così si fa, sì. Stavo dicendo prima si fa il buco e poi si piazza. No, perché poi non si può... acqua fa anche le fiammate, non si può piazzare questo blocco in aria, quindi va per forza messo un blocco sotto e poi va rotto il blocco stesso. Qua il carburante è finito, voilà, quindi non stiamo producendo più niente, intanto l'energia genera le batterie. Come avete visto produce anche della luce, perché come ha smesso di produrre, non va più niente. E... Piazziamo della lava sotto al generatore. Adesso è silenzioso, come sentite. Qua possiamo benissimo attappare. E sta producendo poco. Dai, più o meno produce il... Produce fino ai 40, sì, 40 massimi J, quindi produce veramente di meno, quindi produce di meno. Però produce una base di energia che continua sempre ad andare, senza far casino, perché comunque c'è del calore sotto il generatore, quindi del movimento c'è la lava scalda, quindi riesce a far girare questo motore, ovviamente non fa rumore, perché non c'è il carburante all'interno. Ah, se mettete il carburante all'interno e sotto c'è anche la lava, il generatore comunque produce lo stesso. Non so se produce di più di quanto dovrebbe produrre, però funziona normalmente. Quindi, quello che consiglio è di mettere sempre della lava sotto il generatore, quindi che produce anche quando vuoi non mettete il carburante all'interno, quindi il secchio di lava in questo caso. E nel frattempo, quando avete bisogno di più corrente, perché non ce la fanno i vostri apparecchi a essere alimentati dal generatore di calore, mettete il secchio di lava, sembra un po' perso quel discorso. Comunque ci siamo capiti. Ok, saliamo su, andiamo a vedere che sta comunque caricando le batterie. Con un minimo comunque sta caricando, quindi sicuramente cominceremo a trovare le batterie sempre più cariche. E facciamo una cosa ragazzi, per evitare di perdere l'energia, dovremo cominciare a mettere le batterie giù, però forse questo qua è meglio che lo mettiamo nella seconda puntata, tanto alla fine dei conti abbiamo il generatore che produce sempre un minimo, quindi ce la ricaricherà tranquillamente. O se no magari lo posso fare anch'io, posso anche benissimo spostarle e poi farvi vedere, tanto alla fine abbiamo visto come si possono rompere tranquillamente, senza che questi componenti vengano persi. Bene ragazzi, tanto il generatore a carbone lì adesso non ci serve, magari lo mettiamo giù di sotto. Per il momento credo che abbiamo fatto quello che ci serviva, e forse nella prossima puntata vi faccio trovare, come dicevo, un po' di sistemazioni. Ragazzi, è uscito un po' l'accento del sud, anche se non c'entra niente. Ragazzi, allora, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, se vi piace il video, come al solito, mi raccomando, mettete mi piace, e se volete iscrivervi al canale, sarà un vero piacere farvi vedere i miei video. Niente, da Mr.Tike è tutto, e ciao a tutti!